Nella mattina di Millennium stiamo parlando di abbigliamento, stiamo parlando di abbinamenti, di un sacco di cose che riguardano ovviamente l'abbigliamento, soprattutto estivo, ma anche in generale. In questo caso ci occupiamo però di abbigliamento che riguarda il mondo femminile, quindi so che tutte voi amiche all'ascolto state già drizzando le orecchie. Abbiamo con noi, con noi qui al telefono, una nostra nuova amica che è Gisella Young di Eleven Store di Milano, in via Vigevano 13. Gisella, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Allora, una vocina bella, così carina, ma sicuramente una tanta voglia e tanta passione immagino anche per il tuo lavoro. Quanti anni è che ti sei buttata in questa tua avventura? Allora, che ho il negozio in via Vigevano è da quattro anni, però in verità ho lavorato sempre nell'abbigliamento, perché comunque a casa avevo un'attività familiare, quindi avevo sempre lavorato nel campo di abbigliamento da quando sono piccola. Quindi insomma, ti è sempre piaciuta la passione, poi tra l'altro è un mondo veramente molto molto vasto. Tu ti occupi esattamente di abbigliamento femminile, ma c'è, non so... Femminile. Femminile, c'è una cosa particolare di cui ti occupi, oppure insomma anche vasto la proposta che hai nel tuo negozio? Allora, abbiamo un target che parte da 18 fino... cioè io ho clienti che sono signore super chic di 60 anni, super tenere, che tipo vogliono vestirsi un po' più alternative e comunque un po' diverso dal commerciale. Bella questa cosa, quindi comunque sia, già innanzitutto abbiamo capito che non c'è età, può venire chiunque da te, ma soprattutto una curiosità che ci siamo detti. Sì, secondo me la moda non ha età, è una cosa che parte proprio dalla voglia di essere diverse. E allora, per essere un po' diversi e avere qualche cosa di alternativo, come hai detto tu prima, secondo te, chi viene nel tuo negozio seguirà un po' il trend dell'estate? Hai qualcosa tu da proporre di particolare? Dici, ma questa cosa qui andrà tantissimo quest'estate, tu ce l'hai? Sì, allora, noi ci basiamo sulla selezione dei capi che comunque sono un po' più ricercate per quest'estate o comunque della moda attuale, però cerchiamo di differenziarci e non di essere commerciali, tipo essere un po' comunque diversa dalla massa. Infatti abbiamo tutti i capi singoli. Bella che è questa cosa. Poi abbiamo i cambi, ossia, dei commerci ogni settimana per poter comunque dare possibile a tutte le ragazze di essere diverse. Quindi, insomma, chi viene da te trova anche, possiamo dirlo in questo caso, dei capi unici. Cioè, una volta ho comprato, una non può ricomprare con lo stesso capo. Se uno dice, ah, dove l'hai preso? Ad Eleven. Eh, ma guarda che intanto non c'è più, devi scegliere un altro. Sì, è quello che capita tantissimo tra amiche. Abbiamo parlato del trend dell'estate, ma una cosa importante, insomma, ci siamo chiesti, ma se una cliente arriva lì con dei capi, magari, che ha scelto lei, che però secondo il tuo gusto, diciamo, anche proprio da professionistici, ma io non li abbinerei così, le consiglierei questo. Cosa fai? Cerchi di consigliarla comunque? Oppure, visto che la cliente è già contenta, dice, vabbè, è contenta, va bene così, oppure cerchi comunque di consigliarla? Cerco sempre di comunque proporvi degli abbinamenti magari un po' più fattibili. Si cerca di fargli cambiare idea. Comunque la partenza è sempre quella, se veramente non le sta bene. E però se lei rimane sempre dell'idea che vuole quell'abbinamento, da un certo punto... Il cliente ha sempre ragione, quindi se lo porta via. Si, va bene. E però gli dai sempre, ma se in caso non sei convinta, vieni a cambiarla. Non mi arrendo fino all'ultimo. Gliel'avevo detto, signora, che doveva prendere l'altro e magari vengono ancora più convinte. Allora, uno dei bust, invece, dell'estate, sono, si dice già in giro, sai che questa cosa, le voci della moda circolano sempre e comunque, sono gli accessori. Tu, infatti, gli accessori cosa ci racconti? Allora, in verità, c'è un scappo, c'è un look di abbigliamento, quello che può variare è veramente buttarsi sugli accessori, diventa molto personalizzato. Infatti, cioè, queste estate va tantissimo, le collannine accostate, cioè tipo più collanne messe su, c'è comunque le facettine per i caselli, le mollettine con le perle. Sono tutte cose che veramente valorizzano un look magari super normale, un t-shirt e un jeans. Guarda, detto così, come l'hai raccontato tu, mi invoglia anche a me di mettere i nastrini e le cose. Va bene. Ma se vuoi te ne porto un po'. Va bene, possiamo provarci. Allora, grazie Gisella per questa chiacchiera. Ti ricordo che Eleven Store si trova a Milano in via Vigevano 13. dice, andatela a trovare perché è proprio così, carina, vedete che sulla pagina Facebook è proprio una ragazza carinissima. Buona estate, Gisella. Grazie, buona estate, anche te, ciao, ciao.